Il Chieti acciuffa in pieno recupero l'imbattuta capolista San Benedettese al termine di una partita molto ben interpretata dagli uomini di Chienese nella prima mezz'ora di gioco. Poi è salita in cattedra la Samba che ha iniziato a prendere le redini del centrocampo, riuscendo a ribaltare nella parte finale del primo tempo il fulminio vantaggio nero-verde di Paletta. Poi, come detto, il finale concitatissimo è il 2-2 del Chieti che dunque impedisce la minifuga della capolista. In mezzo un arbitro, Reinaldi Di Como, che non ha saputo gestire l'incontro. Alla fine sei espulsioni tra campo, due e panchina, ben quattro e otto ammunizioni. Un bollettino di guerra in una gara giocata con determinazione sì, ma senza la cattiveria evidenziata dai cartellini. A fare da cornici ad un pomeriggio di sole un Angelini colorato di nero-verde, come non si vedeva da tempo, con bandiere sciarpe e striscioni. Uno spicchio anche per i tifosi rosso-blu, 500 nel settore loro riservato, ma altri 200 erano in tribuna. L'avvio del Chieti, in campo con gli stessi 11 che hanno vinto a Riccione, una notizia in casa nero-verde, oggi in completo bianco, è determinato e coraggioso. Aggressività e pressing sui portatori di palla avversari. La squadra di Chianese schiaccia la Samba nella propria metà campo. Il vantaggio arriva subito all'ottavo, Samba impreparata, palla in area, a seguito di un batti e ribatti, la sfera arriva a paletta, bravo a tirare subito e a trafiggere Coco. Angelini in visibilio, la giornata inizia a colorarsi di nero-verde. Chieti pericoloso anche al 14esimo, con un gran tiro di Salvatore, la sfera leggermente deviata, esce di un niente. Il Chieti continua a spingere, sembra in controllo del match. La Samba si vede per la prima volta in avanti alla mezz'ora. Barberini, al termine di una bella azione manovrata, riceve palla al limite dell'area. La conclusione viene fermata da un presunto tocco di braccio di Marino. L'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Arrigoni, ex Teramo, in sacca l'1-1. Il gol forse spaventa un po' il Chieti, che arretra troppo il baricentro. Samba in avanti ancora due minuti dopo. Arrigoni pesca in area scimia, che colpisce di testa, ma alza troppo la mira. Trentaseiesimo, punizione ospite sulla trequarti, traiettoria velenosa quella di Arrigoni, che diventa un assist vincente per Sirri, che anticipa tutti e deposita in rete a due passi da Serra. La gara si incattivisce nel finale di tempo. A gioco fermo, Masavud cade a terra sotto gli occhi dell'arbitro. Parapiglia tra giocatori a fatica, torna la calma. Ne fanno le spese Fall per il Chieti e Alessandro per la Samb, ammoniti. Dopo il duplice fischio, Chianese si becca il rosso diretto per proteste. Nella ripresa sarà Pizzi a guidare la squadra, stessi 22 in campo. Il Chieti prova a macinare gioco, ma la manovra non è fluida. Troppi lanci lunghi verso Fall, che fa quel che può. Al dodicesimo Masavud si mette in proprio, tiro alto. Al ventesimo l'episodio che segna la partita. L'arbitro espelle Barberini, per lui secondo giallo. Il Chieti ci crede. Al ventiseiesimo, gran tiro di Salvatore, fuori di poco. Iniziano i cambi. Nel Chieti entrano Ardemagni e Di Sabatino per Mercuri e Paletta. Al trentunesimo però la Samb potrebbe chiuderla. Sponda di Tomassini per Cardoni, che in rovesciata costringe Serra ad un grande intervento. Il Chieti tenta il tutto per tutto. Dentro anche Mancini per Masavud. Al quarantatresimo viene allontanato anche il tecnico ospite Lauro per proteste. L'arbitro assegna otto minuti di recupero e al cinquantesimo arriva il pareggio. Sugli sviluppi di un corner si accende una mischia furibonda in area rosso-blu. Su tiro di Laziz l'ultimo a toccare la palla è Fall. E' il 2-2 con cui si chiude il match anche se c'è tempo per un nuovo cartellino rosso ai danni di Sirri. Finisce così. Un pareggio tutto sommato giusto che lascia le cose come stanno, ovvero San Benedettese avanti di tre lunghezze sul Chieti. I neroverdi domenica giocheranno a Termoli.